no no subito 36 anni è proprio il punto di stop giovesette la vita la vita a 36 anni ci sono due due le pittine su una avanti qua e una avanti da quindi a 36 anni divertite fate i reperitivi scopate guardate che cavolo mi pare a 36 regà decidente a 36 anni regà è fondamentale non c'è oltre come il punto di non ritorno sentiamo che ci dice il connini che ha deciso dopo 36 anni urla silenzio regà che ti viene la cosa che hai deciso che hai deciso la massimilità che hai deciso non c'è un bambino dai però seppure non hai deciso ho deciso ho due o tre cose in bambino due o tre massi dincene una aspetta parla lui che è filosofo ragazzi c'è qualcun altro che ha 36 anni vai 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 venga tutti i 36 anni vengono qui per favore ooooh 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 c'è qualcuno che ha 36 chi è che c'ha 36 anni? io 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 c'ho 36 aspetta 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 dai devi partecipare pure tu eh lo so eh c'è sta qua allora abbiamo deciso la cosa pure con il mio che c'è l'uomo lui è il protagonista il compleanno e allora io são acordes asspetta aspetta chiamano mais elgo non andare via no ragazzi un momento di attenzione, per favore, per favore, per favore allora, c'è il primo aprile vi spiego quello che è successo c'è una teoria siamo nati lo stesso giorno, voleste siamo nati lo stesso giorno, non ci sono c'è una teoria, allora, io penso questo no, aspetta, a 36 anni, sono 10 anni guarda, ciao amici è così, è scritto, è notizia mia ma è vera ma io me la mangio, è buonissima, è salza è veramente fantastica, non ho capito, il prestigiano sta cazzeggiando dopo 16 anni, quando uno copia in 36 anni devi decidere che devi riconciare no, perché non è troppo quando io ho comprato di anni, soprattutto le donne allora io ho fatto la torta perché non ho apprezzato per niente vedi, è una cosa così internazzo perché conosce però come vedi, come vedi Oreste, me l'umulizza un po' tutto Veste il terrazzo Lascio la parola, 30 minuti che devono dire qualcosa Ragazzi, silenzio Olle Crocelle Lascio la parola ai 36 anni che devono dire una cosa, questa è filosofia, fissatela Vai 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 Vede Un потерno Non è vero? Vi ragazzi, va Star Cap while Cloria Helm Ecco ina E' vero è ora dai, bravo, è un signile Una noia mortale, dai!